Penso che l'associazione Cipeciop abbia fatto quello che ha sempre fatto, cioè sta facendo politica e cerca visibilità denunciando a Saldini. Vorrei essere denunciato anch'io assieme a Saldini perché penso che difendere il proprio territorio sia una cosa dovuta e il ministro Saldini sta facendo questo. Se poi per loro non va bene e bisogna essere denunciati, voglio partecipare anch'io in maniera attiva ed essere denunciato anch'io. Saluti e baci a Cipeciop. Si tratta di prendere atto di un programma elettorale molto chiaro che era quello della lega di Saldini e che Saldini da ministro dell'interno sta portando avanti. Poi se ci sono associazioni che non la condividono prendiamo atto, ma devono capire che quando erano loro al governo hanno fatto entrare migliaia e migliaia di persone che non avevano il diritto di stare in Italia. solo sulla spesa degli italiani e purtroppo dei contribuenti, questi devono capire che i soldi pubblici sono sacri e non sono a disposizione di questa o quella associazione politica, tantomeno a Cipeciop.